Nome e cognome? Sirac Mulugat Da dove vieni? Sono nato ad Asmara ma vivo a Palermo Da chi hai saputo che ci erano messi i propini? Da un'amica mia, Chiella Quanti anni hai in Sirac? 23 Che cosa fai? L'interprete Di francese? No, eritreo all'italiano E con chi lavori? Lavoro in un centro d'accoglienza Ah, interessante Senti, tu ti vedresti in una sitcom Con un ruolo di attore giovane comico alle prime armi? Ma non tanto a dire la verità Però hai una bella faccia Ah sì, grazie Mettiti un po' di profilo, fai vedere destra, sinistra Sì? Ok Senti, Sirac, il diarito palermitano lo conoscevo per parlare? No, più lo capisco anziché parlarlo Però ci provo Vai Che t'ha a dire Va bene, d'accordo Le faremo sapere Ok, la ringrazio